Signore e signori è arrivata la patch 13.9, patch particolarmente piccola se escludiamo quello che è il rework di Niko e l'abilanciamento su Kyle abbastanza aggressivo Il resto sono change particolarmente piccoli che non vanno a fare una grande differenza ma che comunque sono importanti perché ricordiamo la 13.10 sarà la patch più grossa dell'anno No joke è più grande delle ultime due preseason messe insieme la 13.10 quindi anche è normale che vediamo i bilanciamenti più piccoli in questa patch Ricordiamo questa è la patch in cui escono le skinning shadow, le vedremo uscire il 3 di maggio cioè oggi direttamente alle 10 di sera Saranno direttamente disponibili insieme al pass e tutti i contenuti riguardanti le MSI Andiamo però a vedere i bilanciamenti se per sé e lanciamoci a analizzare esempio questa Niko Che era stata promessa come un rework, un midscope della dimensione di altri midscope più grossi come il rework d'Italia Come è stato quello di Olaf, come è stato quello di Wukong Ci sono stati tanti midscope con grossi bilanciamenti e grossi rework e questo sembra uno invece di quelli tra i più piccoli Perché la più grossa modifica è quella della passiva in cui adesso Niko può trasformarsi nei propri alleati E in mostri non epici, minion, trappole, lumi, piante Puoi assorbire nel soldato uno oltretutto quindi non la cosa più incredibile del mondo E' strano, è veramente veramente strano perché ok che se prendi danno non ti ritrasformi indietro Ma sui mostri della giungla sarà una cosa abbastanza mediocre nel 99% dei casi Perché puoi vedere sulla minimappa se il campo è stato pulito o meno sui campi singoli Quindi red e blue buff ti puoi far tranquillamente, non riesci a farti baitare se hai un minimo occhio sulla minimappa Se invece sei su un altro campo, beh sono numerati i campi e quindi puoi effettivamente vedere se c'è un lama becco o un lupo di troppo Anche vengono abbastanza semplici Trappole e lumi sono quelli più intriganti Anche i minion in side lane quando c'è tipo una grossa ondata ma rimane comunque abbastanza a me Cioè il fatto che ti trasformi in strada se subisci controlli o se muori almeno è una cosa buona Però non la cosa più incredibile sempre Il cooldown che scende a due secondi è molto comodo E che classico strumento è il classico gimmick che dura due settimane massimo un mese Poi la gente ci ha imparato a giocare contro e quindi fregherà soltanto i novellini Basta Rimane comunque particolarmente aggressivamente mediocre Detta proprio sincero Figo, divertente come cosa Molto molto limitata, molto molto in fretta se si deve parlare di bilanciamento Il resto del kit almeno è stato ribilanciato in modo da funzionare meglio Perché beh, hanno fatto solo quello, l'hanno ribilanciato La Q che fa meno danno base, ci parla di 5 danni meno Ma uno scale in support di magico potenziato Tanta roba, molto utile L'area of effect, cioè il range di danno che va a fare Passa da 225 ad 250 Buona cosa Fa danno sui mostri della giungla La Q adesso, danno bonus intende Non solo, anche la W fa danno bonus sulla giungla Quindi immagino che vogliono spingere anche per la possibilità di essere Di Nico di essere effettivamente anche un jungler La W adesso puoi ricastarla così che puoi posizionare il clone in posti diversi Che è carino Non è la cosa più incredibile del mondo Perché molti dicono Ah no, ma guarda, questa è una grossa modifica Sì, e va a cambiare un pochino quello che è la funzionalità di Nico su certe cose Ma non è che dici, è quello che va a fare tutta la differenza del mondo Anche la E di Nico riceve una modifica Sempre bilanciamento qua Si parla di 10 danni in meno Ma lo scaling su poteri magico è aumentato al 5% Quindi hai guadagnato 5% qua, 5% qua di scaling E poi c'è la Suprema La Suprema ha avuto dei cambiamenti che puoi dire Ok, questo porta ad essere a capire un po' più interessante Perché adesso, dopo che hai canalizzato per un secondo e 25 Nico salta in aria Lancia tutti quanti i bersagli vicino a lei in aria per 0.6 secondi Poi torna giù a terra e li stordisce per 0.6 secondi applicando il danno Il cooldown è aumentato di 30 secondi e 15 secondi a rank 1 e rank 2 per questo Hai perso 50, è stato 500 danni flat su rank 1, 2, 3 E hai perso lo scaling su potere magico di 30% Da 130 a 100% potere magico Non solo non hai neanche lo scudo mentre stai canalizzando la Suprema Quindi Non sono un grande fan per il semplice fatto che Non risolve i problemi di Nico Escludendo la unreliability Cioè la possibilità non garantita di colpire la ulti Non va a risolvere i problemi di Nico Tutto questo E quindi non mi dice niente Mi lascia proprio e dico Ok non cambierà così tanto il gameplay di Nico da dire Ok qualcosa di diverso come è stato magari per gli altri misscope Abbiamo dato uno strumento in più a Nico Sulla ulti per funzionare meglio E la passiva è un po' più meme Basta Fine Andiamo avanti sugli altri bilanciamenti Adrok sulla passiva riceve un po' più danno percentuale sulla vita massima Per i propri bersagli Ricordiamo un single autoattacco E il danno percentuale aumentato nel mid to late game Di poco si parla di massimo 2% in più all'ultimo rank Quindi Non un bilanciamento così forte Ma è proprio una rimozione di un nerf che c'è stato in passato questo Insieme al nerf che c'è stato in passato su questa Suprema E vatti da 10, 15, 20% di movement speed in più Vasti da 50, 60, 65, 80 E da 80 a 100% di movement speed in più quando attivi la Suprema Buff carino ma niente di incredibile Semplicemente un rimuovere un vecchio nerf Amumu che adesso ha un grosso aiuto per quanto riguarda l'early game L'early to mid game Perché i rank della W sono La W è l'ultima spell che viene rankata Punto fine Non c'è seo ma che regge Quindi il danno percentuale è rimasto invariato fino al 14 Sì fino al 14 è rimasto invariato Mai fino al livello 15 Prima 8 e poi 4 danni in più A livello 15 rimane lo stesso danno Mai guadagnato danno percentuale Quindi hai più clear in early game Quando hai la W attiva Fai più danno in early game Sui trade singoli E quindi non c'è letteralmente nessuno svantaggio a questo Ok perderai un po' del danno base dopo Ma ne guadagni sul danno percentuale Sincero questo è proprio un netto buff Per la giungla principalmente Che è la cosa più difficile per la move Perché spesso e volentieri viene spinto in bot lane Molto in bot lane Belvet che riceve un nerf di .2 AD meno per livello Che sono 3,4 AD a livello 18 Che è insignificante Perché poter fare il 20% di danno in più Con la propria Q sui campi della giungla È la cosa più forte che potessero fare per Belvet Perché vuol dire che in ogni fase della partita Pulirà più velocemente la giungla di prima Quindi nice Good job Riot per aver dato un buff a Belvet Cercando poi di rinerfarla Di bilanciarla attorno a questo Ma non avete fatto in verità niente Questo è insignificante questo change Davvero insignificante Come lo è questo per Jinx Che è .25 di AD meno per livello Che significa che a livello 18 È perso 4,25 di AD Che non è niente È letteralmente pointless questo change Cioè questi sono i classici change di Riot in cui dici Ah abbiamo tolto l'1% di win rate a Jinx Forse in alcuni casi in low elo Quando arrivano a 45 minuti di partita Non un grande fan di questo tipo di bilanciamenti Cioè sono Sembrano quasi dei contentini Come c'è il contentino poi dopo con Sion Questo invece non è un contentino per niente Kyle l'hanno ribilanciato attorno Al fatto che stanno per fare una cosa potentissima Su Soprema Ok skin del potere magico Sullo neat della E pass da 25 a 20% Il danno delle ondate una volta che sei asceso Sono 5 danni in più già dal primo rank Ma non scala più sul rank della E Scala su livello di campione Da livello 11 a livello 18 Quindi meglio a livello di bilanciamento totale Dare un pochino meno way clear Ma poi essere un monster champion Per quale motivo Perché la Soprema adesso ha mezzo secondo di cast time Da un secondo e mezzo che era Hai 150 i range in più diretto Sull'area of effect della Soprema Quindi buono Fai più danno ad area totale E scala con il range di Kyle Da 7,35 poi dopo Adesso Kyle non si abbassa più il range Quando casta la Soprema su se stessa Questo vuol dire che può continuare A autoattaccare liberamente da agitata Nel mentre che è invulnerabile Hai l'invulnerabilità che è fissa a 2,5 secondi Quindi un buff in early game E un nerf a livello 16 Il fatto che il danno poi viene applicato Dopo 2,5 secondi e non un secondo e mezzo E il danno magico che è stato abbassato Di 50 danni a rank 2 E 100 danni a rank 3 E perde il 10% di skin su potere magico Ma non fa differenza Perché potersi rendere invulnerabile Poter autoattaccare agitate Tipo bonkers forte Quindi tipo ok è tornata la vecchia Kyle Grosso grosso buff netto E poco altro da dire Questo è un nerf insignificante Che sta a dire una cosa semplice La passiva di Sion dura circa un secondo e mezzo in meno In media su qualsivoglia partita Bella Grazie arrivederci Un nerf stupido Che non serve a niente Non fa nessuna differenza Tranne per il playstyle di Baus Oltretutto Che fa ridere Perché non è una cosa Che puoi usare sempre Ma il suo way clear Mostruoso Rimane invariato Il fatto che sia un tank Che iperscala E che adesso ha un early game Abbastanza forte Dopo gli ultimi buff Rimane Non comprendo la Riot Sincero Non capisco proprio È curioso a dir poco Vedo questi cambiamenti stupidi E poi penso questi Che sono super intelligenti Che dico Sono 5 danni in più sulla Q Più il 2% di skin su potere magico Se colpisci più fulmini Fai più danno Che poi guardi La differenza Sono 17 danni base in media in più Per ogni singola Q E il 10% di skin su potere magico Sembra una banalità Ma in verità è molto forte Come change Perché Swain spama una montagna di Q Già avere 17 danni base in più Sembra poco ma è tanto Su una spell a basso cooldown Figurati il 10% di skin su potere magico In più Quindi ottima cosa Per Swain mid È una cosa che lo aiuterà tantissimo Allo stesso tempo Mi viene a pensare Oh god Non voglio di nuovo affrontare Swain Che è forte in meta Però È tipo Gli serviva Gli serviva decisamente Talia che adesso Quando subisce danno La Suprema Effettivamente non può castarla Anche prima cosa succedeva Ma prima Anche se tu autoattaccavi O danneggiavi i tuoi avversari Non potevi attivare la Suprema Cosa che limitava molto Talia Lì in senso offensivo E quindi sincero Sono contento Che abbiano deciso di fare così Almeno a questo modo Dovremmo vedere una Talia Che è in grado di aggredire Molto più facilmente Quando ha la Suprema disponibile Trandolo che riceve degli aiuti Sulle stati di base Mana di base Aumenta il suo potenziale Tra i top link Poter usare un paio di spell in più Attack speed funziona A prescindere dal ruolo Che sia top o giungla Che viene giocato Avere più attack speed di base È tipo Nice Ottimo Buon per lui Che ne aveva bisogno Visto che era messo maluccio Dopo i nerf Che ha subito più e più volte Anche Volibear è messo abbastanza maluccio Decide di dargli uno scaling Sulla vita bonus Della W Il danno fisico Da W Da 5% a 6% In vita bonus Non solo Aumentano anche Lo scaling Sulla vita mancante Della cura Viene aumentato di 1% 1.5% 2% 2.5% 3% in più Quindi Buon modo per riportare Volibear un attimo in auge Visto che era totalmente scomparso E meno male Gli serviva disperatamente La Leech Bene riceve 10 Di potere magico in più Che Non è incredibile Ma non è neanche una merda Almeno è competitivo Come oggetto A confronto con gli altri E si chiude il tutto Con Le emote Che adesso potete usare Ben 9 emote All'interno della vostra partita Invece che 5 Ringraziamo il client A 64 bit Che permette di fare Questa cosa incredibile Wow Grazie Riot Questo è il classico Change piccolo Che hanno messo Subito fuori dalla porta Perché È velocemente notabile Tutto qua Poi vabbè Ci sono giustamente Le Aram Le Clash Che vi prego Regà Bug fixatele Perché ci sono troppi bugs Sulle Clash E un sistema di report Durante la partita Questo è importante Perché Adesso vuol dire Puoi riportare una persona All'interno di una partita E il sistema conosce Il momento in cui L'hai riportato Quindi Avrà più informazioni Sulla quale basarsi Nel momento in cui Un tizio decide Ah Decide di trollarla Oppure ha scritto una cosa Cosa del genere Adesso ha il timing preciso Ha il timestamp Su quando succede Quindi ora puoi riportare In Champions Select Quando qualcuno Fa Fa griefing O Se flamma Durante la partita Dopo la partita E quando il match Finisce nella match history Hai 4 occasioni Per riportare una persona Adesso Se mi dite ancora Che riportare Non vale la pena Siete stronzi Usate i cazzo di report Maledizione Non solo Anche il sistema Per mutare le persone E per mutare se stessi O tutti gli altri È stato leggermente migliorato A livello di funzionità Potete trovare tutto quanto Premendo tab Subito tutto nell'interfaccia E questo è quanto Signore e signori Questo è quello Che è stato inserito Nella sua totalità Aspetta un attimo Vediamo se Tam No Non hanno Aspetta Redemption No Quindi non hanno fixato Redemption Non hanno fixato Tam Kench Bella Yeah Grazie Riot Grazie Signore e signori Questo è quanto per questo video E noi ci vediamo Al prossimo neurons Non hanno control